No, 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 assolutamente no, assolutamente no, io non ci sto, io non ci sto a questa sistemazione qua, io non ci sto, non mi posso capacitare, non mi voglio abituare e non mi merito da tifoso di abituarmi a una roba di questo tipo. A me non mi interessa, siamo alla nona giornata e il bandolo della matassa devi cominciare a cercarlo, perché se si va a fare le contestazioni nelle piazze come Torino, se si va a mettere in dubbio la permanenza sulla panchina di Nicola della Salernitana, ho detto Torino e Salernitana, ma ti dico anche il Monza che ha già cambiato l'allenatore, tutte squadre sopra di noi, io non ci sto, io non ci sto a questa storia, perché se l'italiano non è un capo espiatorio mi sta bene ed è giusto anche che non lo sia, perché la colpa va suddivisa su tante figure, i giocatori, l'allenatore, i dirigenti, io ho ritenuto che questa squadra fosse una squadra in grado di poter quantomeno ribadire ciò che era stato fatto l'anno scorso, in questo momento sto toppando e sbagliando in maniera clamorosa, questa squadra non sta dimostrando assolutamente di essere migliorata rispetto allo scorso anno, lo si vede da come approcciano, lo si vede dalla paura, lo si vede dalle certezze che non ha più, e allora io dico non sono un tattico, non siete dei tattici, brutalmente vi dico a me non mi interessa come, ma italiano dopo nove partite e quattro, cinque partite di conference, e bisogna che il modo di far quagliare l'attacco lo trovi, è brutale ve lo dico, cioè io non ci sto a sentire dire perché ora domattina si riparte a pensare all'Erse e se si vince contro l'Erse, cosa molto probabile, di punto in bianco va tutto bene, no, 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 ma nemmeno un po', non va bene un cazzo, catastrofismo no, ma neanche occhi foderati di prosciutto, non ci sto, questa squadra ha dei problemi, questa squadra ha dei problemi, vogliamo continuare a puntare su Jovic perché sono io il primo a dire che bisogna dar fiducia a un giocatore, va bene, puntiamoci, io sono anche disposto a non vederlo segnare, ma Jovic, non tutti, io sono disposto a non veder giocare bene Jovic, non tutto il reparto, non tutto il comparto arretrato, no, non ci sto, non ci sto, però, non ci sto, noi ieri abbiamo tenuto molto alto il campo, ma è inutile, abbiamo, guarda, paradossalmente abbiamo giocato lievemente più verticale rispetto al solito, ma che la Lazio ti aspettasse al varco per ripartire in contropiede, ma questo lo vedevano anche i muri, cioè lo vedevano anche i muri, e allora dico, mi preoccupa un po' che l'allenatore che ribadisco non è il capo espiatore, non voglio lo sia, ma mi meraviglio che non se sia a corto, non me ne rendo conto, cioè, l'italiano ieri dopo la partita ha detto che non mi sono piaciuti i 10 minuti, ora va bene che lui ritiene il risultato bugiardo, ma ora dire che la Fiorentina non gli è piaciuta per 90 minuti significa che per 80 minuti più recupero ti è piaciuta, ragazzi, se ti piace una squadra che comunque non va mai a dare tanto fastidio e non, cioè, crea un sacco di occasioni ma non finalizza, gli expected goal li porterò su questo canale sempre di più, la Fiorentina ieri avrebbe dovuto segnare 2,42 goal, avrebbe dovuto segnare quasi due gole e mezzo, non ne ha fatto uno, la Lazio, expected goal, 1,70, la Lazio doveva fare un gol poco più, 4-0, cinica la Lazio, ma troppo, troppo, troppo sterili, e ora basta, cioè, stiamo continuando a ripeterci all'unisono le stesse cose, io, onestamente, mi sarei stancato, perché non mi aspetto, essendo tifoso della Fiorentina, che vada a lottare per vincere qualcosa, ma almeno fatemi divertire, ma almeno non mi fate umiliare, io l'ho detto ieri, la Lazio viene a casa nostra a fare quello che cavolo gli pare, sempre, 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 e non, io non ci sto, a piatto e pietà, io non ci sto, perché qui basta vincere una partita, si diventa fenomeni nuovamente, bene, e va bene così? No, non va bene, cioè, ragazzi, ho visto gente esaltarsi per la partita contro gli Herse, vinta 3-0, ma gli Herse sono una cosa che non puoi paragonare con nessuna squadra di Serie A, giovedì probabilmente vinceremo a meno di ennesimi suicidi, ma questo non significa che la Fiorentina stia bene e che la Fiorentina di punto in bianco abbia risolto i problemi, no, no, però, ragazzi, te non puoi fare un passo avanti e cinque indietro, cioè, sembriamo la Juve, ragazzi, noi sembriamo la Juve, vinciamo col Bologna, vinciamo col Maccabi, e poi andiamo a fare una figura di merda a Milano, però col Milan, la Fiorentina fa un mini passo, metto un'unghia avanti, battendo 3-0 gli Herse, e poi fa quattro, cinque passi indietro, facendosi uccellare in casa dalla Lazio. Io non ci sto, ragazzi, voglio sapere che cosa ne pensate, ciao.